Ciao a tutti amici di Marcosbox, ben ritrovati nel consueto appuntamento con il riassunto della settimana con tutte le notizie che sono state postate su Marcosbox nella settimana appena trascorsa Questa settimana poche notizie, poche notizie principalmente perché c'è stata di mezzo la festa del primo dell'anno e poi comunque non me la sono sentita di stare a postare come fanno altri blog notizie senza senso una a prestare l'altra, quindi solo per fare numero, diciamo così Cominciamo con la prima notizia La prima notizia è praticamente il post che è stato fatto da Marco Persi la recensione, la mega recensione di fine anno per la sua rubrica Le frustrazioni dei Persi Cosa ha fatto Marco Persi? Marco Persi da parecchio che stava realizzando una specie di maxi lista di tutte quante quelle distribuzioni, quelle derivate che dal suo punto di vista personale non meritano di esistere Perché non meritano di esistere? Perché sappiamo bene che nel panorama New Linux è sì un plus avere la possibilità di creare nuovi progetti autonomi i famosi fork che derivano appunto da progetti che già esistono però questo è anche un male è un male perché spesso e volentieri troviamo distribuzioni che cambiano il pacchetto di icone e aggiungono i codec multimediali e questi si definiscono Nuova Distro in realtà non sono una Nuova Distro, sono una Distro madre con l'aggiunta di qualche cosa parliamoci chiari mantenere una Distro, realizzare una Distro non è realizzare soltanto appunto un tema grafico e cambiare appunto un amirgo o qualche cosa del genere realizzare una Distro e mantenere significa avere anche un'infrastruttura alle spalle avere dei maintainer che curano i pacchetti molte di queste Distro che andrete a leggere all'interno di queste recensioni di Marco Persi appunto si basano su altre distribuzioni per il sistema dei pacchetti si basano appunto sul lavoro degli altri cambiano giusto qualche cosina Marco Persi ha poi fatto una una sotto diciamo così delle sottocategorie appunto su queste Distro che non meritò di esistere diciamo così le Distro fantasiose le Distro wannabe poi le Distro orrende perché effettivamente ce ne sono alcune che i cui programmatori non hanno la benché minima idea di che cosa significa realizzare mettere almeno un tema carino in un aspetto gradevole le Distro esagerate sono tutte quelle Distro che proprio non aggiungono Nuova a Distro madre e poi infine le miracolate che sono quelle di Distro che comunque hanno un senso che però non hanno il giusto il giusto il giusto successo passiamo avanti andate però a leggere la recensione andatevi a leggere la lista scrivete magari un commento se concordate o meno rilascio di questa settimana di questo nuovo anno e la nuova ISO di Magiaro KDE 0.8.9 una release preview perché non è ancora la release finale cosa aggiunge rispetto al precedente rilascio? beh il corposo Change Log riguarda principalmente TUS, l'installer grafico che in Magiaro stanno portando avanti ci sono una serie di fix su Wifi e cose del genere quindi è anche un passi avanti per quanto riguarda l'installazione su queste macchine rognose la versione se per sé si caratterizza appunto dall'avere KDE ha un nuovo tema ha un aspetto più gradevole è stata cambiata la selezione dei pacchetti quindi lo sfondo non è tanto orribile quanto in passato e cose del genere l'ho provato in virtuale perché l'ho provato in virtuale? perché come al solito questa lista poi la installo la versione con KDE mi innamoro all'inizio poi dopo due secondi inizio a toccarmi di nervi per alcune cose ad esempio volete realizzare una versione dedicata per KDE? mettetegli per esempio il pacchetto Firefox con le integrazioni in KDE e KDE Super eh, io non ho sempre realizzato una versione con KDE curate anche l'applicazione di integrazione di alcuni pacchetti e cose del genere non è che costa tanto, eh? come lavoro in settimana è stato postato anche un post di Stefano che ha postato un interessante grafico sapete bene che Linux Torvalds ha un linguaggio per così dire colorito non è sino offese delle più disparate sia nei confronti degli altri altri nel senso inerenti tutto l'universo mondo che non fa parte del mondo Linux sia proprio anche con i suoi programmatori o quelli che scrivono codice insieme a lui e cose del genere bene in questo grafico si tiene conto del conteggio dei termini offensivi utilizzati nelle diverse release del KDE praticamente si è calcolato che in media una riga di codice ogni 50.000 contiene una parolaccia andatevelo a vedere andatevelo a vedere questo interessante grafico ultima notizia della settimana che poi l'ho postata questa mattina è forse quasi quasi lo faccio diventare un appuntamento fisso quello dei temi è l'arrivo di un tema chiamato GNOME Shell KDE che è praticamente che cosa fa? prende il tema di GNOME Shell sapete quello tutto nero tutto con il bordino bianco qualcosa del genere quello che piace tanto ai pinguini non so come mi fa piacere praticamente appunto questa riga è stato preso il tema di GNOME Shell ed è stato portato da un utente su KDE Plasma il tema è quindi appunto un porting diciamo così del tema può piacere può piacere a tutti quelli che odiano il ragone blu odiano lo stile chiassoso di KDE diciamo così e preferiscono un ambiente più minimale più carino e tutto il resto se volete provarlo andatevelo a scaricare trovate dove scaricarlo perché lo potete installare comunque semplicemente con il gestore di temi di KDE Plasma quindi andate nelle impostazioni di sistema andate a vedere il tema e lo scaricato e lo installate non c'è bisogno per forza di installarlo a mano scaricandolo da DeviantArt bene con questo ho concluso spero della settimana di avere tante succose notizie tante succose novità per il blog un saluto a tutti quanti lunga vita e prosperità alla prossima settimana ciao ciao